Leggeremo oggi le scatole di felicità di Karl Norak. Lola, hai già pensato al regalo che ti ho promesso? Un orsetto? Una bambola? Ho già scelto mamma, però te lo dico dopo. Mamma, vorrei queste due scatole da montare tutte da sola, esclama Lola. Ma non è un vero regalo, dice Teo, il suo fratellino. Lola non vuole che qualcuno l'aiuti. Che cos'è questo coso qui? Dove cavolo andrà? Molto fiera, Lola fa vedere le due scatole ai suoi genitori. Guardate, le ho chiamate le mie scatole di felicità. Quella piccola per le piccole felicità e quella grande per le grandi felicità. È una bellissima idea, dicono mamma e papà. La riempirai domani, ora, a letto. Va bene, risponde Lola. Lola, però, non sa resistere. Allora, il mio vecchio orsetto Alfonso, piccola o grande felicità? Grande. La mia collezione di conchiglie? Piena di piccole felicità. E hop, dentro. La cartolina del mio amico Simone con la scimmia che mi fa ridere? È così buffa. Grande felicità. Ah, l'orribile peluche Jojo è il mostriciattolo che fa le bolle. Questi sono dei boh. Ma io non ho scatole per i boh. Allora, dentro il vecchio cassetto. Deciso. Ciao. Lola sente la mamma che sta arrivando. Così si infila veloce sotto le coperte. Mamma, se questa notte faccio un bel sogno, lo disegnerò e lo metterò in una delle mie scatole. Il giorno dopo, Lola mostra il suo disegno a papà. Ho sognato che ero il presidente della repubblica. Hai visto che bello il mio palazzo? Grande felicità. A scuola, Lola cerca altre piccole e grandi felicità da raccogliere. Luca, le fa la linguaccia. Tu non illuderti, esclama Lola. Non ci sarà mai niente di tuo nelle mie scatole. È molto bello il tuo collage, Lola. Però lo stai rovinando. Perché lo pieghi così? Le chiede la maestra. È una piccola felicità. Non ho scelta. Deve entrare nella scatola piccola. Durante la ricreazione, Arturo il timido le regala un sassolino a forma di cuore. Che buffo cuoricino, scherza Lola. Assomiglia più a un orecchio. Però, piccolo sasso, grande felicità. All'uscita di scuola, arriva Luca e la sua banda di prepotenti. Ehi, Lola, tuo fratello ci ha raccontato delle tue stupide scatole. Ecco, tieni la mia lattina. Puoi metterla dentro una delle tue pattumiere. Lola non è per niente triste. In fondo, questi sciocchi dicono solo stupidaggini. E non ci sono scatole per quelle. Però è arrabbiata con Teo, col traditore. Gliela pagherà. Teo non c'è. E Lola si calma. Prende il sasso a forma di cuore. Guarda, Sassolino, che onore ti faccio. Stai per andare nella scatola delle grandi felicità. Quando Lola entra in camera sua, Teo sta rovistando nelle sue scatole. Eh, Lola, non sto rubando niente. Ho solo messo delle nuove cose nella tua scatola. Il mio fazzoletto usato e una caramella succhiata. Vai via, che schifezza. Il tuo fazzoletto puzza. E non voglio una caramella tutta appiccicosa. All'ora di cena, Lola non c'è. Mamma e papà la cercano dappertutto. Dove sarà finita? All'improvviso, Lola fa capolino della scatola grande. Voglio essere felice e non uscirò da qui fino a quel momento. Dopo una bella storia, però, Lola si sente meglio. Sapete, mamma e papà, ci sono un sacco di piccole felicità che non si possono mettere in una scatola. Per esempio, chiedono mamma e papà. Il bacio della buonanotte, il bacio della buonanotte, esclama Lola. Lola, dormi? Chiede Teo nel buio. Nessuna risposta. Allora Teo posa dolcemente sul letto la sua scatola di scuse. Grazie.